Dal centro di Wuhan arriviamo alla ultima giornata di vigilia di questo China Tour 2014 con Inter Forever che ha iniziato la giornata con una sessione di allenamento, nel vero senso della parola, quest'oggi curiosamente con Francesco Colonese a guidare il gruppo, ragazzi che hanno svolto una fase di riscaldamento aerobica con il pallone, poi qualche esercizio per la rapidità, rimaniamo al qualche e soprattutto una conclusione con una bella partitella dove ha avuto Luis Figo un piccolo problema di natura muscolare, vedremo se recupererà per domani, ma Mr. Colonese quest'oggi confidava nella possibilità di riaverlo, giornata che è proseguita sempre all'interno del Wuhan Sports Center con la squadra che ha lavorato con i bambini nella scuola calcio locale, con alcuni esercizi, quindi un po' di spiegazione dal punto di vista tecnico a questi ragazzi che si affacciano al calcio dei grandi. Dopo questa parte una parte lunghissima dedicata agli autografi con grandissima attenzione ovviamente del pubblico locale, c'era una veramente folta nutrita pattuglia ai tifosi nerazzurri venuti da ovunque, da alcune zone veramente lontane anche da Wuhan con la squadra che si è fermata in toto a firmare autografi raccogliendo appunto l'abbraccio dei tifosi. Non solo questo ma una parte dedicata ai bambini nel pomeriggio per tre dei ragazzi di Inter Forever, sto parlando di Javier Zanetti, Massimo Paganini e Salvatore Fresi, che hanno vissuto un pomeriggio bellissimo all'interno della Wang Shi Primary School of Xialu, una scuola elementare distante circa due ore da Wuhan, dove i tre sono stati di fatto festeggiati, salutati dai tantissimi ammini presenti che hanno offerto una dimostrazione di calcio. Tantissimo interesse per il calcio e tantissimo interesse per l'Inter che verrà testimoniato domani dalla grande attesa che c'è per una partita. Saranno vecchie glorie come si dice in Italia ma sicuramente qui in Cina hanno grande appeal. Prova Inter Channel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.ito, chiama all'199 100 200, prova Inter Channel e poi scegli.